ecco in settimana è già andato a cercare la sella lui sicuro perché adesso gli hai già spiegato com'è lui in settimana va a cercare la sella dove nel box perché quando l'abbiamo trovato ha tentato di uscire con quella la gli abbiamo segato via non dalla sella addirittura dal telaio dove poteva appoggiarla l'ha lasciata sempre a casa ma io lo so che c'era la è vero no e la come con su una candelina fa schifo ma è bellissima è bellissima perché avete aspettato me non ho capito spappi dov'è spappi dov'è mette giù il pietro adesso come non c'è si ho capito lui c'è la gambe dieci centimetri più di noi almeno dove c'è nessuno c'è qua che mette ragione nessuno oggi non ci vanno neanche i birilli il coso del defrago lo lasciato a casa su altra macchina guigi allora penso che un minuto e mezzo di video con la sella è sufficiente basta così o così decidete voi commentate guarda 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 è bellissima è bellissima è quasi come te quindi non possiamo fare come è bellissima come è bellissima è bellissima Grazie a tutti.